Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo una maglia che avevamo già visto in passato in versione fan, trovate qui la recensione, la prima maglia dell'Ajax per la stagione 22-23, questa volta in versione player. La maglia home adidas Ajax 2022-23 combina il tradizionale bianco e rosso del club con rifiniture dorate presenti sul colletto, così come lo Stemai Ajax e il logo dello sponsor Ziggo. Le tre stripes si trovano sulle spalle, colorate di rosso. Il colletto ha uno stile AV sovrapposto. Una maglia sobria e semplice, ma sempre circondata da un fashion incredibile. La maglia authentic è la versione indossata in campo dalla squadra. La vestibilità più aderente rispetto alla versione fan è progettata per il fisico dell'atleta. Questo prodotto contiene il 100% di materiale riciclati ed è solo una delle soluzioni di Alidas per la lotta contro l'inquinamento causato da rifiuti plastici. Che bella! L'Ajax secondo me ha sempre un fascino incredibile e la prima maglia mi piace veramente tanto. Nella mia classifica questa prende 4 stelle. Molto bella con una qualità veramente eccezionale. Qui in alto vedete il prezzo che per una maglia fatta così bene in versione player, voglio dire, è veramente molto basso, conveniente. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia, ma soprattutto trovate un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete utilizzare sul sito per comprare quello che volete. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Nel frattempo spero che possiate regalarci un grosso like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci rivediamo alla prossima. Io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.